Omicron dilaga e il virus porta il Veneto a un nuovo drammatico primato. Il bollettino regionale fa segnare oltre 21.000 nuovi casi con quasi 173.000 Veneti positivi e una tendenza che non accenna a placarsi. Il picco maggiore che abbiamo raggiunto da inizio pandemia, insomma, sappiamo che il numero dei positivi con questa variante Omicron è un numero in continua crescita. Il picco di contagi si traduce però in una pressione contenuta sulla sanità. La parte ospedaliera continua a tenere, abbiamo 205 in terapia intensiva e 1.500 in area non medica. Cresciamo anche in queste due reparti però sicuramente in maniera molto ancora contenuta. L'unico parametro ancora da zona gialla è quello dell'occupazione dei letti in area non critica ma con questi numeri il rischio di finire in zona arancione nelle prossime settimane è davvero concreto. Il problema principale è che il sistema sanitario comincia effettivamente ad avere una forte tensione. Questa è la situazione attuale, resta da capire cosa accadrà nell'immediato futuro. Ci aspettano delle settimane molto intense. Qual è il problema? Il problema è che con numeri così grandi tutta l'attività di contattresi e di tracciamento diventa impossibile, questo lo sappiamo e quindi abbiamo le file, i punti tamponi. Anche le farmacie ormai insomma sono prese d'assalto. Abbiamo il fatto che alcuni non riescono a essere contattati dai SISP perché chiaramente quando i numeri sono numeri di questa portata è impossibile pensare che ci sia un tracciamento come quello che conosciamo noi e quindi c'è una grande sofferenza dal punto di vista di questo sistema.